Soprannome Max Da che città vieni? Pistore Il tuo pregio? La tenacia, la costanza e la determinazione Il tuo difetto? La testardaggine e a volte la poca obiettività Il tuo sport? Il calcio Una frase nel tuo dialetto In che dici? Da 1 a 10 quanto sei? Timido? 3, 4 Romantico? 9 Fortunato? 10 Porco? 10 La faccia più brutta che puoi Il tuo sogno nel cassetto? Diventare un conduttore televisivo vero Ballo, canto, presento Direttamente da Striccio la notizia Max Laudadio Ciao C'è un brindisi Che noi normalmente facciamo Bravo Tutti gli anni E ci porta bene per l'anno nuovo Reche 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 Teche Teche E allora buonasera a tutti Benvenuti a questa ennesima puntata Del Ficcanaso in compagnia di Max Laudadio Caro il mio regista preferito Mia figlia vuol salutare il pubblica? Stai iniziando il Ficcanaso Con il papi tavolone Vai papi Vai si inizia Buongiorno Conosce Conto Arancio? Bene adesso Questo è tutto Max Laudadio Rino Per Striccio la notizia Milano Ce l'abbiamo fatta 6,30% Se lo metti ragazzi Anche in paradiso I comici Hanno bisogno di un pubblico Siamo in teatro In coppia Hanno fatto questa nuova coppia Maurizio Di Francesca e Max Lodadio Facciamo questa commedia Che si intitola La morte dei comici Quando è morto Totò Che divertimento Come? Lo passai a prendere il 15 aprile del 1967 Pensa che ha avuto continui attacchi cardiaci per ben 7 ore Che mimica Che smorfie Era il più grande Lui era veramente il più grande Lui Ero lì Intimidito Dalla sua personalità dirompente Immaginati Io la morte Intimidito da un essere umano Quando mi ha visto Mi ha chiesto chi fossi E gli ho detto Sono la morte Principe Lui allora mi ha guardato Mi ha preso il braccio Me l'ha aperto da una parte E mi ha detto Ma vi faccio il piacere Vi faccio E se ne vada I nostri inviati sul palco si sono scatenati Max Laudadio si è lanciato con una canzone di Sinatra I love you Calma, calma C'è sempre una prima volta Così tu mi aiuterai in questo spettacolo Vero? Ok Io mi metto qui E faccio la torre Grazie Bravissima Buonasera 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 Grazie per la visione!